complimenti mister siamo tra le migliori otto d'europa qual è il primo pensiero che le viene dopo questo fantastico risultato ai ragazzi alla squadra che hanno fatto una partita strepitosa hanno tirato fuori energie che neanche loro sapevano di avere abbiamo avuto qualche problema alla vigilia abbiamo avuto qualche problema durante la gara ma i ragazzi sono stati bravissimi a compattarsi e a conquistare una qualificazione negli arco dei 180 minuti meritatissima avete preparato la partita benissimo l'inter ha gestito il palone ha tenuto campo bene è stata una squadra che ha portato tanti uomini in attacco cosa le è piaciuto maggiormente questa sera mi è piaciuto l'intensità l'aggressività che abbiamo avuto in tutta la partita sia dall'inizio perché sappiamo insomma che qui al dragao è stata difficile per tutte le squadre che sono venute qua quindi sapevamo di dover tirare fuori qualcosa di particolare i ragazzi l'hanno fatto anche oggi è stata la prova del gruppo avete dimostrato di che pasta è fatta questa squadra assolutamente sì ragazzi sono stati bravi si sono compattati tutti insieme hanno fatto una grande gara e adesso guardiamo con tanta fiducia al futuro in europa mister si gioca un calcio molto più fisico cambia anche nella preparazione delle partite assolutamente insomma c'è un'intensità non c'è la palla sempre in movimento qui stasera c'era una recata palle dentro il campo che non ti davano il tempo però lo sappiamo l'intensità della champion però onora questi ragazzi che hanno fatto una grande partita grazie grazie a tutti